Dopo aver fatto ridere i comuni mortali Antonio Pandolfo e Marco Manera si cimenteranno in un'ardua impresa che li porterà sin nell'aldilà. Dopo il successo di Onestamente Disonesti e Chi si salva è perduto, uno dei sudalizi artistici più amati dal pubblico, è pronto a debuttare con un nuovo esilarante spettacolo. Da domani al Teatro Agricantus di Palermo andrà in scena Atti Unici di Madre Vedova, il nuovo spettacolo con Marco Manera e Antonio Pandolfo che si incontrano ancora una volta sul palcoscenico per una brillante commedia degli equivoci che non lesinerà colpi di scena. Ormai con Marco Manera siamo tipo Sandra e Raimondo, cioè ormai quando si tratta di fare qualche commedia ci diverte molto lavorare assieme. La Agricantus è già la terza produzione che portiamo in scena, è sempre molto divertente per cui noi tendiamo ad alleggerire, nonostante il periodo che sia stato abbastanza pesante, cerchiamo di far divertire la gente e tanti spunti per ridere, tanti, tanti. Si riderà assai e sono due poveri imbecili, non è che un bel complimento che mi faccio, due poveri sprovveduti diciamo così che si trovano per caso nel limbo. Quando arrivi nel limbo che devi fare? Devi scegliere, intanto devi sostenere un esame per capire se puoi entrare in paradiso e se no devi andare all'inferno. Ma c'è una terza possibilità che io non vi posso svelare e noi sceglieremo proprio questa terza possibilità e sarà un completo disastro, ma disastro comico però, stiamo attenti. Lo spettacolo replica fino al 10 aprile, giovedì, venerdì e sabato alle 21 e la domenica alle ore 18.